Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente al quartiere Tamburi, in via Orsini, angolo via Machiavelli. Beh, non sono certo io a scoprirlo, il quartiere Tamburi vive e soffre i danni, i guasti incommensurabili prodotti dall'Ilva. Ma poi ci sono delle altre trascuratezze, c'è uno stato di abbandono veramente impressionante. Per esempio, proprio in questa zona, vedete, i semafori, gli impianti semaforici sono praticamente spenti da una settimana, sono rotti, non funzionano, sono fuori uso. E ora siamo in registrazione ed è il 13 di giugno, sabato 13 giugno, e da una settimana questa situazione non è affatto mutata. Signori, la zona è pericolosissima, è un incrocio pericoloso davvero, si sono verificati incidenti. Cosa dobbiamo aspettare, signor Sindaco, signori amministratori? Che ci scappi il morto? Per poi dover piangere sull'evento luttuoso? Per poi vederci noi cronisti, noi operatori dell'informazione, a dover dare conto, a scrivere, a versare i fiumi di inchiostro sull'ennesima tragedia? Riparate questi semafori.